sono voluto tornare la juventus perché mi mancava casa ringrazio la società juventus l'allenatore il mio agente e il milan che mi hanno permesso di essere qui oggi riniziare questo nuovo questo nuovo percorso con con tanto entusiasmo con tanta voglia di migliorare e con tanti obiettivi da centrare grazie